Yes Radio Yes Radio Yes Radio Yes Radio La nuova radio Yes 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 Radio Ciao The Mike, benvenuti ad una nuova puntata della Emotional Trend Chart, la classifica delle 20 canzoni a Plifting Trends della settimana che viene presentata da me ogni domenica su Yes Radio a partire dall'ora 18. Oggi avremo una nuova entrata e quindi partiamo subito, ieri è stata una giornata fantastica a Sanremo quindi oggi sono tornato. Oggi quindi una nuova entrata che non troviamo subito perché al 20 in discesa c'è Simon O'Shine e Serge Nevon con In Spite of Everything. Oggi avremo una nuova puntata della Emotional deposited a Sanremo, in Spite of Everything, in Spite of Everything, in Spite of Everything. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. , , , , , , , , Angel Fly, I'm OK, Cold Rush è in salo l'asso, la posizione numero 14 l'Emotional Trend Chart che arriva la domenica qua su Yes Radio a partire dalle ore 18 al 13 in salita Fabio XB e Rina Makosh, stay with me Ancora, and you wanna know That for you I'm gonna be strong You'll make me feel right now Baby, don't leave me alone 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 No, no, no. Stay with me, Fabix B e Irina Makos era la numero 13, al 12 una in più per Bobina e la sua Invisible Touch. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti